Ok ragazzi eccoci in live, dovremmo essere partiti, fatemi sap, fatemi sap se ci siamo, momento che ricontrollo anche io Vediamo un po' se siamo partiti, dovremmo essere partiti Voi nel caso fatemi sapere, fatemi sapere se sente tutto, se si vede, se ci siamo Buonasera a tutti, intanto buonasera a tutti, come va, come va, allora, allora, serata, ci ributtiamo su Skyrim Ci eravamo lasciati l'ultima volta con qualche difficoltà tecnico-tattica tra bug e morti tra l'altro C'è anche la signorina di stasera Salve, buonasera E quindi dobbiamo ripartire credo dall'ultimo salvataggio Ci eravamo buggati in realtà l'ultima volta, però vediamoci, dovrebbe essere comunque il salvataggio precedente Vabbè, io vado sul continuo e intanto carica la partita così capiamo se è tutto ok o meno Poi una volta in game fatemi sapere anche se i volumi sono giusti perché adesso, vabbè, all'inizio era sempre pompato il sound di Skyrim Siamo a livello 16, ok, ok Eh, per The Last Guardian io non lo sto seguendo, però da alcune immagini che ho visto sembra molto poetico Però dalle bestemmie di Ale i comandi non so se sono... Diciamo che è molto poetico e ci saranno momenti anche molto toccanti grazie appunto a Trico Non so se già nel video che è uscito oggi o nei, credo di più, nei due video che usciranno domani Se riesco vi porto due video domani di The Last Guardian e là ci sarà, non dico da commuoversi, però è bello questo rapporto da il bambino e Trico Grazie naturalmente a Trico e non al fottutissimo bambino di merda Comunque, tornando a noi, intanto saluto chi si sta pian piano unendo Eravamo qui, stavamo, vabbè, facciamo un sunto, stiamo facendo la missione prova d'onore che è quella dedicata ai compagni Un'ultima prova prima di reclutarmi, quindi prima di entrare nel gruppo dei compagni appunto Siamo qui nel tumulo degli scheletri, dobbiamo recuperare un frammento Vabbè, avevamo già visto che... dov'è? Quello lì poi si trasforma, però è qualcosa che è successo prima, ora Qua c'abbiamo l'arco No, mi devo ricordare perché come detto ragazzi, l'ultima volta abbiamo isolato Cioè abbiamo isolato, nel senso si è bloccato il gioco, quindi Ma diciamo che le difficoltà dei comandi di The Last Guardian rimangono Poi vabbè, io comunque vi darò le mie conclusioni nel finale Perché un gioco fino a quando non lo finisci non mi sentirei di dare un'opinione definitiva Per il momento, vabbè, quello che posso constatare è il fatto che i comandi siano fatti un po' così Non è facile controllare Scusate, si è messa davanti, mi ridà la freccia, Serana Questi sono piuttosti, eh Non so se sto continuando a colpire Serana Forse sì, perché c'è un'altra freccia piantata da qualche altra parte Comunque, perché si è appena unito, vabbè, buonasera a tutti Stiamo riprendendo il nostro Skyrim da dove ci siamo lasciati Quindi con dei bug, nel senso che dobbiamo rifare questa parte che avevamo visto nell'ultimo episodio Allora, allora, abbassiamo un pochino Sì, queste fasi un po' di combattimento sono più pompate Oro, abbiamo preso le nostre frecce C'è le nostre sue, magari L'oro ce lo prendiamo Aspetta Vabbè, io qua metto... avevamo Questa qui, che è molto cazzuta Continuiamo ad avanzare Questi, come detto, evocano personaggi che sono praticamente gli stessi dei nostri nemici Cosa che di certo non è che ci aiuta molto a destreggiarci Qui tra... Va meglio il volume? Nemici, cunicoli, eccetera, eccetera E... gli anelli riprendiamo Andiamo al Tempio del Rifugio Celeste Ok, qui non c'è niente Proseguiamo, proseguiamo Quelli qua erano già usciti Apriamo la porta e... Portarci su, salviamo E... Vabbè, andiamo avanti Spero non si bughi di nuovo Perché, onestamente Eh, ma perché questo gioco ha i dialoghi bassi e i suoni altissimi Però, aspetta, l'altra volta le avevamo viste le impostazioni Audio generale Effetti Allora, facciamo così Eh, magari sì I passi un po' più in qua Musica leggermente più bassa E lasciamo le voci più alte Eh, rimetto un'attacchina un po' più alta Fatemi sapere così almeno Eh... Vediamo se riusciamo a costruire la casa in questa live Proseguiamo ancora questa missione Perché, come detto, è quella che stavamo facendo l'altra volta Per quanto riguarda The Last Guardian Non lo so quant'è la durata Ora... Vediamo un pochino Forse vi saprò dire Magari nella prossima live Che sarà domani sera ore 21, presumo Magari... Sì, penso che si può fare domani alle 21 Perché tanto a che ora finiva la mega maratona di Bim Bum Bam Ah, boh, ma mica ti puoi vedere tutto Bim Bum Bam Scusa Sennò che cazzo stiamo a fare? E... Prendiamo tutto quello che possiamo prendere Poi risalviamo un'altra volta Qua, allora ci chiudevamo dentro Io vado qua Dicono di salvare Eh, sì, sì, mi risalvo Anzi, salvo anche in un modo abusivo Nel senso Salviamo Eh... Su uno di questi Sì L'uscita vostra con Wildlands lo porterai? Sì, sì, assolutamente sì Per quanto riguarda il Pad Pro della PlayStation 4 Diciamo che ce ne sono due versioni Uno della Razer E un altro della Big Bang Interactive, mi sembra E... Mi piacerebbe prendere uno dei due Non so ancora quale No, non fatelo cantare Adale, please Perché dovrei cantare Ah, mo ci sta questa dentro Invece del barbone Forse era il barbone che faceva baggare la cosa Ma che cazzo ne so Io quello era solamente un rincoglionito Salve Ma guarda che situazione Eh, lo so, lo so, è brutto Non preoccuparti, non ti muovere Penserò io Spero, diglielo, diglielo Che è successo? Eh, domenica Nessuno di voi resterà in vita per raccontarlo Domani Ah, domani Dalle... Domani è domenica Dalle dieci di mattina alle otto di sera Il vecchio bim bum bam Con le puntate dei vecchi cartoni animati È da vedere Comunque abbiamo visto che il tipo Il compagno si è trasformato in lupo mannaro L'avevamo visto tre volte Questa è la terza volta Lo vediamo Olè Olè Ce l'abbiamo fatto Sì Spero di non averti spavano No, tutto a posto È una benedizione Dicevo, il pet della... Allora, tra i due Quello della Big Ben mi piace perché ha gli analogici come quelli della One Quindi non in linea come quelli della PS4 Ma uno più basso e uno più alto Quello della Razer mi sa di molto cazzuto Perché io, come avete visto, ho il pet della Xbox One della Razer E penso che... Non lo so L'hardware mi convince di più Però di quell'altro mi piace il fatto che sono dei... De allineati Gli analogici Poi non lo so se ne prenderò uno dei due O se rimango col mio pet, eh Vedremo Solo i membri del circolo hanno il sangue di bestia Devi dimostrare il tuo onore Se vuoi diventare un compagno Tieni gli occhi sulla preda Non verso l'orizzonte Sarà meglio muoversi Dobbiamo ancora occuparci dei Draugr Sì, su meglio essere testa lo fa Intanto saluto chi si sta unendo Ehm... Ok, adesso possiamo fare un salvataggio rapido Perché mi sembra che la prima volta eravamo morti qua davanti O proprio ci eravamo bloccati Cioè bloccati nel senso buggato Non lo so Forse eravamo morti la seconda volta Sì, eravamo morti con questi mi sembra Ah no, questa è la cura Aspetta Come c'è la mazza elfica Vabbè, io metto lo scudo, dai E fatemi fa qualcosa però Ale, posso chiedere che monitor hai in mente di prendere se l'hai già detto Allora, come dicevo Il dubbio è... Vabbè, intanto... Ah sì, perché queste le avevamo prese Su diversi monitor Perché, come detto, ero in dubbio tra un monitor Sempre tutti e due 28 pollici Ehm... 4K 60Hz O... Ok O... 144Hz Credo 2K O full HD Sono in dubbio anche se Ehm... Ma chi è? Che te fa mala la panza? Chi è? Chi è che fa mala la panza? Che cazzo ve siete magnati? Vabbè Ehm... Detto questo Devo... Devo vedere un pochino Perché In realtà Ehm... Mi servirebbero poi due schermi Quindi non so se alla fine Dovrò comprarli tutti e due Perché poi, vabbè, avendo il PC nuovo Mano d'argento, però, è quello che gli fa mala la panza Sarebbe... Di cosa hai bisogno, sangue di drago? Ah, è quello di Serana che l'aveva evocato Che cazzo è? E quindi Diciamo che, vabbè Forse poi mi ritroverò pian piano a comprarli tutti e due Non lo so chi prima e chi dopo Perché, come hai detto, poi avendo il PC nuovo Ehm... Questo si risveglia, si vede Va, fermi tutti Ho fatto io in un attimo Non c'è bisogno di fare tutta sta cacciara Ehm... E questo è quanto Quindi, come vi dicevo Magari, poi Li andrò a raccattare tutti e due Piano piano Perché, comunque Devo vedere anche un po' I prezzi Vabbè, il budget è lì Quindi, per la notte Per la notte Per la notte Per la notte Sapevo, non l'hai sentito Aspettate Vale, oggi puoi fare la missione della fiala bianca Che ti avevo suggerito la scorsa volta? Della? Fiala bianca Ce l'abbiamo scritta da qualche parte Allora, controlliamo Aspetta che devo abbassare il volume Sennò non sento un cazzo Controlliamo Ah Sì, a Windhelm La locanda Per la pozione infinita Di non so che però Oh, vabbè, poi Adesso ho un Asus Full HD VX79 qualcosa Mi sembra Però, come detto Per le live Sono necessari Due schermi È obbligatorio Per forza Sennò non si può fare A live E quindi adesso Sto prendendo Uno schermo Che ho Nell'altra stanza E ogni volta Lo devo portare Qua Attacca Rattacca Stacca I cavi Un cazzo di casino I cavi I cavi Al momento Un secondo Cioè, lo schermo Che prenderò per primo Lo userò come secondo schermo Insieme a questo Poi però avendo Avevi bisogno di qualcosa Anche l'altro PC Il PC nuovo Vediamo Vediamo Quindi probabilmente Si tratterà solo di quale Prendere Prima tra quei due E poi Riorganizzarsi Per l'altro Ok Questo Fetta di formaggio Ma che è Gorgonzola Si Più o meno Allora Lì c'è qualcosa Anche qui Diamo una salvata Eh si Per quello Il fatto è che C'è Sempre il dubbio Tra Come detto 4K O Questo è Arduo Non so se ce la facciamo O 2K 144 Che poi Tra l'altro Quando registrerò Con quelle registrazioni Saranno Quella Risoluzione Lì Perché comunque Più di 1080p Grazie mille Ad Api Per la donazione Grazie mille Api Perché per registrare In 4K Porca puttana Ci serve O una scheda Di acquisizione Che supporti Il 4K E al momento Ce ne sono poche E quelle decenti Costano Se non ricordo male 1300 euro Quella che costa meno Tra l'altro In 4K Oppure bisogna usare Il programma Shadowplay Della NVIDIA Però non so Se ce la fa Perché poi Devi giocare Con il PC Stai giocando Con il PC In 4K E in più Devi registrare In 4K Quindi Le risorse Che ciuccia Un sistema Del genere A lavorare In questo modo Sono Abnormi E per quanto Il PC nuovo Magari sarà Abbastanza Decente Però Nel frattempo I Grimaldelli Sì I Grimaldelli Stanno finendo Malamente Ci dobbiamo Ricomprar Poi Dobbiamo Vedere Chi è Chi è Che li vende I Grimaldelli Qualcuno Della gilda Dei Fottuti Ladri Che poi Arriva All'ultimo Millimetro Eh Sto Cazzo Ma perché Adesso Non va Bene Ho detto La vibrazione Dello Scassinare In Skyrim Molto peggio Di quella Di Fallout Di qualche Sex Sul canale Spero Spero Di sì Spero Di sì Ok Ce l'abbiamo Fatta Per Guantinanici Eh Cazzo Questo Però Vale 300 Questi 85 Gli Rilascio I guantinanici Cazzo Ci faccio Però L'elmo Sembrava Decente E E Allora Stavo vedendo Un attimo Il vestiario Quello che Abbiamo Preso Il Noi Vabbè Al momento Stiamo Utilizzando Per la Capoccia Anello Elmo Aps 22 Questo In realtà C'avevamo Prima Però Che gli attacchi Con arco Infliggono Danni Maggiori Aspetta Mi segno Sto Cosa No Questa C'avevamo Armatura 31 No Cazzo Mi tengo Questa Missione DLC Dragonborn Ce l'hai? Quale è il DLC? Eh Per Shadowplay Vedremo Tanto io Comunque Continuerò A registrare Con le schede Acquisizione Per quello Mi sono documentato Sulle schede Di acquisizione In 4k Però Quando ho visto Che costano 1300 euro Porca puttana Mi pare Un po' Troppo E Va bene Va bene Anche perché Poi in 4k Sarà più Un evento Più Da vedere In video Non lo so Da giocare Magari È figo Ogni tanto Una garetta Tipo ad assetto Corsa in 4k Hai detto qualcosa? No Non ho detto niente Che cazzo Quindi Niente Ti hanno consigliato Una missione Da fare Per l'armatura Più cazzo Aspetta Ale Conosce Se mai Farai Il DLC Peruvian Connection Di Tom's Clancy Sgostre Con No Motorsport Ritorna Sì Sì Lo continuiamo Lo continuiamo Al momento Mi sto concentrando Un po' Su The Last Garden Perché Sto facendo La prova Magari Con questa serie A postarla Con più frequenza Rispetto Magari Ad altre serie Perché Vedendo che Comunque Parto con una serie All'inizio Magari Viene vista Poi abbandonata Praticamente Da tutti Provo a fare Un po' Così Devo fare Un po' Di tentativi Per vedere Se magari Uscendo con più Costanza Potrebbe suscitare Più interesse Non lo so Andiamo al tempio Del ripugio Ale riporterai Un gioco Direi Ci manca La sportive Già Passo Passo Di Aderenza Sì 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 Vorrei riprendere Che Anche VRC6 In realtà Perché Abbiamo visto Pochini Cazzo Siamo morti Sto Fottuto HOD Però È una Merda Io Là sotto Non lo Vedo Mai Non lo Vedo Mai Comunque Ti consigliano Di farti La missione Principale Per toglierti Quelli Là Da mezzo Sennò È troppo Semplice Tra le regolette Così Eh Meno male Che semplice No Più che semplice È fastidioso Perché mi fregano Eventuale Esperienza Però Porca puttana L'HOD È una Merda Quello Della salute L'ho detto Già Dall'altra Volta Lo devono Mettere Lì sopra Dov'è La mappa Dovrebbero Essere Invertiti Perché Là L'occhio Ci va Sotto No Comunque La cosa Della Questa Era Gilda Dei latri Per avere Il grimaldello Che non si rompe Mai Già Lo sapeva Però Ha deciso Di fare Somma Quella Eh sì Perché Tra Tra altri Consigli C'era Anche Il fatto Che Per L'agiltà Dei latri Stavo Andando Parecchio Avanti E quindi Sarebbero State Molto Più Difficili Le Missioni Quindi Stiamo Stiamo Facendo Un po' Un po' Di tutto Tutto Di più Ecco Vedete Questo Siamo qua Dietro Ma La donna Trampata Mi sposto Non lo so A parte Che siamo Così tanti Che non si Riesce a capire Chi è Cosa Questo Esiste Mato Per Certe Cose Nel Sì Nel 2017 Vabbè Quindi Tra un Mese Penso Un po' Più Avanti Ma Che Ci sta Sto Rifugio Celeste Che Questa Rope Di Marone Ogni Volta Stiamo Trovando Un po' Di Queste Sono Live Da Seguire Nel Lepiccio A Caldo Tranquillo Rilassato Ok Come ti è sembrato Watch Dogs 2 Non spoilerare niente però Che ci sto giocando Molto ma molto bello Molto più bello Del primo Molto più interessante Molto più vario Molto più Anche la trama Onestamente Il primo Molti dicevano Che è più profondo Serioso Ma Onestamente La trama del primo Faceva cagare Questo secondo Invece mi è piaciuto Molto ma molto di più Anche a livello di trama E di storia Molto più realistica Molto più attuale Realistica Tra virgolette Diciamo che è molto più Diciamo che è molto più Aumentiamo Ma penso che il prossimo horror Che arriverà sul canale Sarà Resident Evil Visto che uscirà A gennaio Penso di sì La missione attuale La missione attuale L'hai completata Ma Eh Ale Aspetta No Dobbiamo recuperare il frammento Che in realtà Non ci dà neanche Aspettate Ale Al posto dello scudo Potresti provare Non ce l'aveva tolta Ad usare due spade Se premiamo entrambi i tasti Per attaccare Dovrebbe fare una specie di combo Eh ma Non so come Attrezzarla Sulla Sulla Mano sinistra La Seconda spada Vai alla scena Oh scusa Vedete Cazzo De casino Ok Ce n'è un altro Da qualche parte Eh Questa Prendiamo l'oro La pozione Salve salve Lingotto Oro E basta Mettiamo Un attimo La cura Ci curiamo Un attimo Qual è il gioco Che ti ha preso Più tempo Non lo so Fall out Fall out Non troppo Vabbè Eh Il cazzo Fall out Almeno Oddio Non Magari tantissimo Quanto uno Si potrebbe aspettare Però le mie 150 Barra 160 Ore Le ho fatte In realtà Dovrei ricontrollare Perché Forse L'ho fatta Anche di più Poi Ah ti hanno donato Oh non l'abbiamo visto È vero Si Vedi un attimo Eh si Sto 235 Eh non era Rapid Prima No Continuiamo Ad avanzare Scusate Aspettate forse Grazie Fantasma Formaggino Grazie Fantasma Formaggino Per la donazione Ma è uscito A schermo Eh si Loro l'hanno detto Ah ok Eh si si È uscito Ma non l'abbiamo visto Ah Eh perché Ce l'ho là Stavo proprio Fissato qua Tentio comunque Grazie mille Grazie mille Fatemi salvare Porca puttana Eh perché io Clicco su quello Per salvare Vado al volo qua Pensando Di salvare Invece Disattivo la missione Però vabbè Ci stiamo sempre Qua quindi Va bene Allora Altri due Cazzo La deve fermi Le spacche Il curo Non è vero Perché già stiamo Morrendo Coppiti Vabbè Andate un attimo Voi che mi curo Ehm Cura Vediamo del supporto Tra fallout e stadio Un po' è dittura Di tutti gli aspetti Come storia Ambientazione E gameplay Allora Tutti e due Mi garbano Forse il gameplay Direi che ad esempio Skyrim Per i combattimenti Vabbè Non mi piacciono per niente I combattimenti di Skyrim Ehm Fallout Bene o male Vabbè Sono sempre Fatti Un po' così Però almeno Essendo sparatutto Nel senso Sparatutto Con Con armi da fuoco È più facile Qui non è che ti aiuti Tantissimo La visuale Di cosa hai bisogno Di cose Però mi stanno Cioè Sta fai cose Sto disegnando Scusatemi Di questo Sì Puoi equipaggiare L'arma L'arma sulla mano sinistra Prevendo il tasto Che usi per attaccare Con lo scuro Ok Dicevo Trigo Trigo Nelle sue movenze Anche un po' Nell'aspetto Mi ricorda molto La retta Per quello Mi sto affezionando Ancora di più E poi Vabbè Lascia fare Poi Trigo Si innamoreranno Tutti di Trigo Per forza È troppo Un grande Il bambino È un piccolo Bastardo Ma Trigo è un grande Vabbè Bastardo Ma perché I comandi Vabbè Sì Anche perché Non conoscendo La madre Non sappiamo Buon appetito Buon appetito Ma tanto io Non parlate Dici Basta Non partire per niente Sennò finiamo qua Zack Zack Fermi tutto Zack Noi riusciamo ad ammazzare Sono questi che sono allungati È giusto Vinci Morto uno Apa Se ne fa un altro Sempre Voleh Ehm Proseguiamo Stiamo proseguendo Oltranza Non mi spingere Quale serie Era incazzato Si riesce a capire Perché poi I nostri alleati Evocano Questo c'è Lo spagone Grazie mille A Inaros Per la Sottoscrizione Si effettivamente Ce l'ho un po' Defilato Il secondo Schermo Lo vedo un po' Meno Quindi lei Molto attenta Mi raccomando Eh Sì sì Eh sì sì Andiamo va Questo ve lo lascio E proseguiamo Stiamo avanzando Sarà nemica Questa E noi facciamo E Volevo fare L'attacco dall'alto Come Dark Souls Grazie anche a Gio Di Fronzo Per la Sottoscrizione Aspettate Faccio una cosa Perché forse Magari se Mi avvicino un po' Lo schermo In questo modo Vedo meglio Non credo Che ho detto Prima Te banno A lei Da casa Aia Così De prepotenza Questa Stampa Adracc Aspetta Va Sono finiti Fatemi curare Abbiamo un sacco Di roba Abbiamo aumentato La nostra capacità Di recupero Sbam Tra poco Vado a fare La merenda Ragazzi E Vabbè Parliamo al vento Qua E Ma Che Mannaggia La puttana Di Mannaggia E Frecce Polvere Un po' Di roba Sta di fatto Che qua dentro Ci stiamo a fare Un sacco Dei soldi Niente di interessante C'è sempre Qualcuno Che si lamenta Ma va bene Andiamo Va Io sto disegnando Tracer Chiave Del tumulo Degli scheletri Oro E pergamena Qual è Un'altra Sottoscrizione Ma che cos'è Ma non stai Proprio attento Ma non è uscito Iscritto Qui Guarda Non c'è Qua Matt Dove sta No Jody Fronzo E l'altra Non è uscita Però No Non me la Chi è Chi è Matt 97 X23 Scusate Eh no Infatti Non Non è uscita Neanche qua Può essere Anche che sta A mezzo Un pallato Twitch In ritardo Non lo so Vediamo Se magari Esce Tra un po' Come l'altra Volta Che una donazione Andiamo al tempio Del rifugio Oh mamma mia È arrivata Mille mila anni Dopo Andiamo al tempio Del rifugio Porta Righe da chiave Che ci abbiamo Questo è Un surcio Prendiamo la coda C'è qualcun altro Ma sto ancora all'occhio Se su questi va bene E Vabbè facciamo comunque Un po' di esperienza Molto poca in realtà Ste coda le prendo Perché ci serviamo Per fare qualcosa Ora non ricordo cosa Ma ci servivano Per fare qualcosa E Il tavolo lì Eh sì Ogni tanto mi esce una cosa Allora Come si fa a fare La sottoscrizione Eh c'è Il pulsantino Sotto il Riquadro Del canale Credo Che sia Abbonati Una cosa del genere O subscribe Non lo so Sì Alpi Eh che cazzo è Aspettate È ragnone gigante Congelante Tra l'altro Ok Abbiamo ammazzato male Sì Mendo Ma le disegno Un occhio Esce sempre Perfetto E l'altro Manca a pagarla Fatemi un'altra curata Ok Vabbè tanto noi i ragni Li ammazziamo Quindi poco male Aumenti No aspetto No aspetto Aspetto Prima di farlo Facciamo dopo Siamo qua Anzi salviamo Salvo spesso Perché qua E' pieno di Di gente cattiva E di Sorsi maletici Guarda questo E dai Dai non me lo togliete Sotto le mani Mortacci vostra Ammazzate i sorsi Non roppe di coglioni Cos'è Allora qua ci sono Questi qua Alza la voce Sono un po' sordo Dall'orecchio destro Ma tanto non devo dirti niente Quindi Puoi stare tranquillo Allora qui c'è un ponticello Che Ci porta Qua dove Possiamo andare Poi di là Però aspettate Vabbè Ah è quella Che evoca Terzo Perché c'era anche Una stanza Aspetta Siamo venuti da qua Vabbè Intanto Questi qua sopra Fanno I loro porci comodi Eh avevo visto Poi un'altra Mi sarò sbagliato Forse si Vabbè Andiamo va Scusi Si sposti Allora Ti consiglio di mettere Un punto a cura sinergica Così puoi equipaggiare L'incantesimo Cura su tutte e due le mani Così premendo L2 R2 Puoi curarti più velocemente Eh vabbè Però un'arma Me la tengo lo stesso Anche perché Dobbiamo sempre stare con L'occhio Agile Grazie Grazie Matteo Gene 99 Altro che disco E serate Ale e Fabi Are the best Grazie Ma Kratos Il fustro da Lo facciamo sempre dopo Mangiato E aver bevuto Tipo due litri Di coca cola A testa Siamo arrivati Siamo arrivati C'è anche un urlo E noi andiamo Aspettate Prima di prendere tutte ste cose Cerchiamo un po' di cianfrusaglie Nei bauli Pergamena Allora aspetta Prendi 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 Datemi l'urlo Dammi la parola Parola del potere appresa Fuoco Soffio di fuoco Vabbè che il fustro da È cazzuto Però Ci può pure restare Prendiamo il frammento Ok Vabbè Tutta sta cacciara Ce ne possiamo anche andare Adesso Bene così E Ce ne possiamo andare da qua Ditemi di sì Ah ok Comunque questa spada Che abbiamo Che è dedicata I non morti È molto Efficace Devo dire la verità Vabbè anche loro Mi danno una gran mano Però Allora dici la verità Te ne sei pentito Di non aver giocato Skyrim prima Vero? No ma io Skyrim Già sapevo che era un capolavoro Infatti l'avevo acquistato Non appena uscito Ma Poco dopo Per pc È uno di quei giochi Che l'ho sempre avuto Ho detto Vabbè primo o poi Lo gioco Primo o poi lo gioco Però è sempre Questione di tempo Adesso ho detto Vabbè esce la rimasterizzazione Appena esce la Prendo per console E la gioco Perché se rimando Non la giocherò Più E infatti come vedete Abbiamo approfittato Del fatto che comunque Stiamo facendo Le live Perché altrimenti Farla sul canale Sarebbe stata difficile Perché full up Avete visto Che sono usciti Cento Quanti episodi Non lo so No quell'altro Vabbè Questo me No Questo Ora Pochi ce l'hanno Questo Muore in maledetto Ok E stanno continuando ad uscire Come se non ci fossero domani Spero che Magari Possano aprirmi anche Una porta Per uscire da qui Magari Stupissimi Un momento Oro Vede pazienza Ragazzi Ma è una fase concitata Della battaglia Sì sì tutto Completato E presi anche Tutti i tufei Tra l'altro Tranne uno Che era quello Della Mothership Z Di prendere Tutti i collezionabili Ma era Una cagata Quel DLC Quindi Mi sono rifiutato Di cosa hai bisogno No ce l'abbiamo aperto E L'unica cosa Che vorrei capire È se Cioè veramente Mi devo rifare Tutti il giro No Mi da Ah ok ok Possiamo passare Da qua Perfetto Sì avanziamo Anzi salviamo Prima perché Abbiamo fatto Un bel po' Di cose Che è successo Grazie a Rated Fra 1900 Per la Sottoscrizione Ma tra Skyrim Oblivion A livello Di ambientazione Quale Ti ha Chiuso Allora Oblivion Non me lo ricordo Poco Ragazzi Ve lo dico Onestamente Lo giocai Tra l'altro Anche una Settantina Di ore Credo Però Avevo fatto Solo le Gilde Me lo ricordo Molto vagamente Perché A parte che Sono passati Sacco di anni Questo è quello Che abbiamo letto Prima Quindi possiamo Andarcene di qua Quindi onestamente Me lo ricordo Molto poco Avendo giocato Anche molti titoli Quindi E Vabbè Adesso possiamo Anche tornare A portare Sti cosi Usa due spade Che fa molti più danni Si è vero Che alla fine Lo scudo Non è che lo usiamo Tantissimo Possiamo provare A In realtà Noi La mazza Usiamo Quindi possiamo Provare a fare Così Non so se Possa funzionare Come cosa Però Ci abbiamo ancora Il cavallo Muccato Eccolo qua Grande il nostro Cavallo Muccato E In realtà Possiamo Andiamo al tempio Del rifugio Ma state calma Perché Ci andiamo Teletrasportandoci Eh ho capito Zoom Zoom In un attimo Più in qua Ficca puttana Vai Sì comunque Sono giochi Che ci si perde Un sacco Di tempo E No la slim È ottima A quel prezzo Come Console Allora Andiamo Usiamo Farming simulator Vediamo ragazzi Vediamo un pochino Tra l'altro Perché abbiamo Due indicatori Aspettate Forse ci abbiamo Qualche altra missione Attivata Sì le varie Mi ha attivato Le varie Perché Ah torna Da talent j Perché gli avevamo Procurato le tre E tra l'altro Noi siamo venuti qua Presumo Proprio per talent j Però Ci potrebbe Anche stare Se riuscissi a zoomare Sarebbe molto più facile Come cosa Sì Sì Qua è talent j Però vabbè Lo facciamo Perché effettivamente Se no ce ne scordiamo Di sta cosa Gli dobbiamo procurare Le tre Ametiste Che in realtà Ci servivano Per l'altra missione Però Eccoci Hai un bel coraggio A tornare qui Dopo quello che hai fatto A Chirava Vabbè Prenditi sta ametiste E non rompe il cazzo Io Non ho parole Una tale cortesia È sempre più rara Di questi tempi Ok Vieni Ti prego di accettare Questo per il tuo sacrificio Inoltre volevo Cioè Volevamo Ringraziarti Vabbè Vabbè Questa l'abbiamo Pozione Non scassano Vattene da qui Fai calmo Non è il momento Per partire E fare Adesso Adesso andiamo a completare La missione Che stiamo Facendo Adesso E Regione Abruzzese Abruzzese Dobbiamo Arrivare Qua Dietro Vai Vediamo se Ci prendono Nei compagni Dopo che abbiamo Fatto sta Missione Ci sta Ci starebbe Vabbè Il deltone S4 È sempre S4 No Fallout 4 Non l'ho più Fatto Quello della felicità Dell'accampamento Perché sono andato avanti Con le missioni Poi non ci sono più Tornato In realtà Poi sono usciti Parecchi DLC Che probabilmente Aiutano anche Ad arrivare A livello Di felicità Più alto Perché ad esempio Quella dei Robot Sbloccava Alcuni oggetti Che aumentano La felicità No quella del volto Quella del volto Che c'erano alcune cose Che aumentavano la felicità Però non mi ci sono più messo In realtà Una cosa che mi frenava Un po' Era il fatto di essere Arrivato al massimo Tra virgolette Del No devo andare più in là Della Delle cose Costruibili Edificabili All'interno Della Della cittadina Che l'avevo fatto Nella fattoria Bernati Se non è arrivato Eccoci 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 Alzeresti lo scudo Per difenderlo Gli coprirei le spalle Per impedire al mondo Di sopraffarci E brandiresti La spada In suo onore E' pronta Ad assaggiare Il sangue Dei suoi nemici E sollevereste Una coppa In suo nome Sono pronto A intonare La canzone Del trionfo Mentre la nostra Sala degli incontri Narra le sue storie Dunque il giudizio Di questo circolo È completo E il suo cuore E il suo cuore Batte con la furia Il coraggio Che hanno unito I compagni Sin dai giorni Lontani Delle verdi estati Che batta insieme Ai nostri Che le montagne Risuonino E i nostri nemici Tremino Al suo richiamo Così sia No semplicemente Ragazzi qua C'ho la chat Quindi Seguo la chat Nel frattempo Mentre sento Quello che dicono Va bene E anche questa È fatta Parla Di lavoro Con i capi Dei compagni Cosa che faremo Adesso Perché sennò Poi ci scordiamo È vero che i compagni Sono lupi mannari No chiediamoli Prima cosa Significa Vivere affinché I tuoi fratelli E sorelle di scudo Possano dire Con orgoglio Di aver combattuto Al tuo fianco Gloria in battaglia Onore nella vita Non salutato Come sta parlando Eh ma non ce l'abbiamo Un'altra spada decente A una mano È vero che i compagni Sono lupi mannari Vedo che hai avuto accesso Ad alcuni segreti Prima del tempo Non importa Sì È vero Ma non tutti i compagni Solo i membri del circolo Condividono il sangue Di bestia Alcuni imparano Più facilmente Di altri Beh io invecchio La mia mente Rivolta all'orizzonte A Sovengarde Temo che Shore Non accoglierà Un animale Nella gloria Come farebbe Per un vero Guerriero nord Vivere come degli animali Avvicina le nostre anime Al lord Daedrico Ersin Alcuni desiderano L'eternità Nel suo territorio Di caccia Ma io bramo La confraternita Di Sovengarde Sì Ma non è una cosa facile Non devi farti carico Delle preoccupazioni Di un vecchio guerriero Oggi si festeggia Il tuo valore Parla con Erland Se vuoi un'arma migliore Di qualunque cosa sia quella Dovevo parlare con Erlander Per l'arma che ha detto Comunque Fatemi un attimo parlare pure Qua con gli altri compagni Già che ci siamo Vai No Outlast penso Lo farò come serie normale Per quanto riguarda City Skyline Probabilmente Sì Eh sì La retta fa sempre Mi prendo cura Dei guerrieri Di Giorvascoro Da moltissimi Va bene Ma noi non ci interessa Signore Scostumato Eh scusate Ci possiamo metter A parlare Con tutte Signore Che Fragassano I maroni No Non ci ho mai giocato A Vampire Se diventi Se diventi Luco E l'immunità Su tutte le malattie Compreso il vampirismo Eh lo so Però dobbiamo proseguire Con le missioni Dei compagni Per questo Stiamo qua Almeno vediamo Un pochino Allora Questo è Aela La cacciatrice Questo è Skyor Aspetta Mi sono castrato Ma hai giocato A Vampire De Mascherate Già Ho appena risposto Ma io sono distratta Eh lo so Me ne sono accorto Quando mai E Ando cazzo Sterti E Farkass Vabbè Partiamo dall'ultima Stanza Sì si Continuiamo ad avanzare Non rompi i guglioni Ho sentito Che potresti essere Più forte Di quello che sei Ma certo Assolutamente sì Vai Un abitante Dell'Huffingar Ha chiesto Il nostro aiuto Sembra che Un predatore Abbia infestato La loro dimora E che qualcuno Debba stanare La bestia Andiamo al tempio Del rifugio celeste Sapevo che Non ci avresti deluso Occupati subito Della cosa A nessuno Piace avere Una bestia Che vaga A casa propria Eh sì Comunque la Fanno La Rimasterizzazione Di Crash Bandicoot Ehm Allora Dobbiamo prendere Presumo Una missione Alla volta Dei compagni Non lo so Se può fare Qualcosa in più Sì Eh lo so Che dobbiamo Mentre la forgiatura Pian piano Faremo Anche questo Oddio L'altra volta Ci siamo messi A forgiare un po' Dico Abbiamo forgiato Tutto il forgiabile Quindi al momento Non ho più niente Di forgiabile Allora Come detto Proseguiamo un attimo La missione Dei compagni Dobbiamo andare Qui sopra Palazzo blu L'ho scoperto Sì Ci trasferiamo Al palazzo blu Ma non lo so Se più avanti Ci saranno sempre Più multiplayer Secondo me È una via Di mezzo Sempre Il single player Penso ci debba Sempre essere Magari alcune tipologie Tipo The division Ci vorrebbe più Split screen Secondo me No Quello non lo faranno più Eh però E come te fanno A vendere due console Eh Al massimo Rimaranno Su Su pc No Niente da dirti A meno che Non si tratti Di affari Tieni in considerazione La fiala bianca Sì sì Poi la Facciamo Essere vecchi Non è poi così male Tanto come detto Voglio farmi un po' Andare un po' Avanti con la gilda Dei compagni Perché effettivamente Andare Diventare Ecco L'uomo Ah Mi savo Faffa Magino Che cosa sia Ok Dobbiamo tornare Dalla tipa Però già che ci siamo Fatemi vedere qualcosa Qua Niente Non posso fregare niente Ah È proprio Ruba ruba Vabbè Come non detto Namo Spam No Non devo parlare Devi togliere i coglioni Posso uscire Allora Torniamo dalla tipa Come detto Sì perché Come detto Mi piacerebbe Fare l'ubacchia 8 Qua Non è male Aspetta Dove cazzo Sto andando Da qua arriviamo prima Forse sì Dal centro di White Run Diciamo Vedi anche Once Esce a gelarsi Con la bestiona La sera Ci tocca Ci tocca Vabbè ma io non so Disegnare Solo che mi piace Questo Vorrei tanto Saperlo fare Ho una figlia Affamata Da sfamare Questi cazzi E' l'unica cosa Qua dentro Sì probabilmente Sì o sta fuori Non lo so Vediamo Facciamo il giro E questo ogni tanto Sta dentro Ok Salve La bionda È serana Gli piace Siri Eh ma Grimaldelli Vorrei capire A chi li posso Acquistare Cosa ti porta Qui Ho sentito Che potresti Essere più Forte Di quello Che sei Ma io ho già Fatta la missione Sei a caccia Sono certa Che il padrone Dell'edificio Sarà sollevato Sicuramente Avranno saldato Il loro debito Allora Aspettate Veniamo di fare Un'altra missione Con questa In realtà Dovrebbe essere La spada Quella più leggera Se non sbaglio Sì in realtà Rispetto alle Dovrebbero essere Come velocità Spada Poi Ascia E poi Mazze Quindi è la mazza Che ce l'abbiamo Sulla sinistra Un po' più leggera Però non so Se mi rallenta Anche la destra In realtà E Vabbè Facciamo un'altro Lavoro Per questo Ok Per The Last Guardian Ho preso in realtà La versione normale Però poi Dopo averlo Acquistato Qualche giorno dopo Mi è arrivato Qualcosina Che poi Vi farò vedere E E Ero l'ultimo Compagno Arrivato Fino al tuo arrivo Poco male Significa che posso Mostrarti molte cose Allora Andiamo a parlare Con Do sta Ma tutta Ma tutta A dormire Stanno questi Scusa Mi dica Sì Stavolta ho concepito qualcosa di leggermente diverso Ma deve restare tra noi Vediamoci stanotte Alla forgia terrena Avremo modo di parlarne più a lungo Dobbiamo andare alla forgia Ando sta Dimenticavo che tu non l'hai mai vista Ecco bravo Si trova sotto la forgia celeste Dove lavora Erland La porta è la scosta Ma io ti indicherò la via Ok Allora andiamo Andiamo Da No no ci andiamo Lui ha detto Andiamo da Forgia terrena Stano Eh ho capito Sto a naso E se toglier vecchio dalla porta Comunque si albi Andiamo da Vieni da me Alla forgia che c'è Erland Quello con cui dobbiamo parlare Solo che io me la ricordo E Andiamo Se mi Ok si esce da qua Non mi ricordavo Continuiamo ad avanzare Un saluto a chi va via Vabbè poi c'è la Riempitrice di acqua vero? Sì Anche perché il 90% L'ha bevuto lei Cioè voi vedete Ne bere Ma è lei che l'ha finito Il bicchiere Però mi alzo Quando vado a fare La merendina Sto cazzo La merendina Eh no Aspettate Devo andare Ah no vabbè Quello Comunque così Sta avvenendo Ma ve lo faccio vedere Dov'è? Si vede? Si vede? Vabbè basta Ha fotocopiato Ha fotocopiato Ma non è vero L'ho preso da qua Ha fotocopiato No l'ha fotocopiato Perché è anche più grande Di quello originale Quindi se vede Noi dobbiamo andare alla forgia Solo che ci ha detto De notte Dobbiamo aspettare lui Che tra l'altro Sta Sta andando abbastanza lentamente Quindi io faccio una cosa Aspetto un paio di ore Comunque Questo magari quello Va alla forza Ale l'ha visto My name is her L'ha detto che lo devo vedere Pure io Perché è figo No è figo My name is her Si Non ho capito Se questo Ah eccola qua E Siamo pronti? Siamo pronti Non me lo faccio Il disegno di Carmelo Vabbè chiediamo anche Qui c'è tutto ciò Che devi sapere Giorvarskor È l'edificio più antico Di Wightran La forgia celeste Si trova qui Da tempo in memore La forgia terrena Contiene un'arcaica magia Più antica degli uomini O degli elfi Ti abbiamo portato qui Per renderti più forte Reputa Ora muoviamoci No vabbè Ma sono i blocconotesi Degli appunti di Skyrim Che sto usando Così a bordo Allora Andiamo al tempio Del rifugio celeste Si però Qui c'era anche Basta Questo rifugio celeste E rotti il cazzo Vabbè Quello con cui dovevamo parlare Andiamo alla forgia Ok Quella misera cerimonia Dietro la sala Non si addice A guerrieri come noi Meriti più onore Che non qualche calzone O banchetto Spero che tu riconosca Ela anche in questa forma Ha accettato di essere La tua antenata Lo facciamo di nascosto Perché Codluck È troppo impegnato A gettare via Il grande dono Che abbiamo ricevuto Egli crede che siamo stati maledetti Al contrario Io penso che siamo stati benedetti Come può qualcosa Che infonde questo genere Di coraggio Essere una maledizione Così ci occupiamo Direttamente delle questioni Per raggiungere i ranghi Più elevati dei compagni Devi unirti a noi Nel sangue condiviso Dovrai unire il tuo spirito Al mondo ferale Sì Molto bene Vada per il lupo mannaro Sperando che non ci siano malus Che fa Ah Ok Aia Così Sbam Ha frittata di sangue Oddio Che lo fa pure con me Vediamo Comunque ti dicono Alex Devo dire che sono Ben sei anni e più Che ti seguo In questi sei anni O più Non mi hai mai deluso Spero che un giorno Molto vicino Ritorni la famosissima serie Di seventi studai Spero che tu possa leggere Il messaggio Fai un cenno o qualcosa Così mi fai capire Che glielo hai letto Ti ringrazio Ti ringrazio Seventi studai Penso che tornerà Però Sei anni Mi sa che è difficile Cioè non è per sfiducia Perché non mi sa Che sono quattro anni Che faccio i video Quindi o mi tampinavi Due anni Prima che facessi video Questa cosa è preoccupante O è stato un buco Spazio temporale Comunque si tornerà Seventi studai Vabbè Merenda time O è l'acqua Almeno l'acqua Vuoi un po' di pandoro No non voglio Che c'è Un po' di pandoro Mi dispiace Se mangio un po' di pandoro No Che cazzo Che sono Aspetta Vediamo di farla finita Aspetta ma M'hanno attaccato questi E perché Aspettate C'è un problema Mi sa che non ci possiamo Trasformare con questi Dietro ai coglioni Non l'ho capito Non l'ho capita Sta cosa Con la Nutella o senza il pandoro? No va bene Normale Light Allora Ah ma Te l'hai trasportato Spero di non aver fatto nessun danno La tua trasformazione Non è stata facile Ma sei ancora in vita Eh però Congratulazioni Ok Abbiamo persino organizzato Una celebrazione In tuo onore C'è un gruppo di cacciatori Di lupi mannari Accampato qui vicino A roccia dell'impiccato In mano d'argento Penso che tu già li conosci Sì Sì Chiediamo un po' di info Intanto io magno Buon appetito Ti invidio quasi La prima volta È sempre più Intensa Ci hai causato Persino più problemi Di quanti non ne avevi Ma non è vero La prima volta Mi dica Le tue vene Scorre il sangue Del lupo Dovrai aumentare La tua forza Però Prima di poterlo Richiamare di nuovo Fa attenzione A dove ti trasformi In questa terra Vivono dei codardi Che non tollerano La visione Della nostra gloria L'ho visto Però mi dica Qualche cosa in più Magari Io approfitto per mangiare Niente Finché non decidi Di diventarlo davvero Poi Beh Vedrai Ma sì Magnate pure voi Io vi prego Sarei più forte Più veloce L'effetto non dura a lungo Però Ma il sangue Dei tuoi nemici Potrà sostenerti Se accetterai Di cibartene Più ci nutriamo Più la nostra abilità Cresce Potremmo perfino Scoprire Grazie Grazie Una cura Parli proprio come il vecchio Io Non dovrei parlartene Io ammiro Codluck Lo rispetto E lo seguo Ma questa volta Si sbaglia Questa non è Una maledizione Siamo i migliori Cacciatori del mondo Se lui si preoccupa Di un qualche Aldilà In cui si beve Idromele A Sovengard Che lo cerchi pure Io però Scelgo la gloria Della caccia Qui e ora I mano d'argento Hanno preso Il controllo Del vecchio forte A roccia dell'impiccato Sono una preda Davvero facile E Ok Possiamo andare Molto bene allora Allora Questi mi stanno Aspetta signore Gli altri ci stanno Ok Che prima Sarà un cazzo di male Ma Cioè Non è per qualcosa Ma Non mi ha detto Com'è che mi ci trasformo In lupo mannaro O me l'ha detto Secondo me no Se me l'ha detto Non lo so perso Sta a mangiare pandoro Questo è quanto Eh no lo so Ehm Bruce clean Un po' così Il fatto è che Vabbè Ma non ci possiamo Trasformare Perché se no Succede un cazzo di macello Aspettate Facciamo prima una cosa A parte che faccio Un altro salvataggio Forma ferale Dicono Apri il menu E cerca Forma ferale Ma Possiamo le sembianze Di un lupo Mettilo tra i preferiti E Il fatto è che Noi al momento Come missione Aspetta Pari che cos'è Perché ci abbiamo Stacca pari Uccidi cacciatori Di lupi mannari Ok lo potremmo fare Anche in sembianza Di lupo mannaro Forse sarebbe la cosa migliore Però Prima Dobbiamo toglierci Dai coglioni questi Perché se ci trasformiamo In lupi mannari Con questi alleati Succede un cazzo di macello Quindi facciamo una cosa Ehm La missione principale Era Era Se non trovo le scritture Aspettate che se mi ricordo Tercesso al tempo Il rifugio celeste Questa qui Il muro di Facciamo una cosa ragazzi Per toglierci dalle palle Questi Ci facciamo un po' Di missione Principale Ale Magna Magna Ma rimane sempre lo stesso L'odio Sì Dobbiamo arrivare qua sotto Non puoi viaggiare In presenza di nemici Mortarci loro Fammi andare un po' Più dietro Allora Togliatevi dai coglioni Scusate Fate spazio Fate spazio Ehm Vabbè queste zone qua Non le abbiamo scoperte Quindi ci dobbiamo andare Col cavallo muccato Però Non l'abbiamo scoperta Grande così Ok Ehm Ale devi toglierti Dalle palle Anche se è rana Se vuoi usare il lupo mannaro Quindi devi finire La quest di vampiro No Io se è rana la voglio È cazzutissima Come compagna E allora Non mi trasformo In lupo mannaro Ho capito ma Se rana è un alleato Cazzutissimo Ma che è Ah un drago Aspetta Andiamo a spaccare il culo Al drago Venite qua Seguitemi Seguitemi Che spacca Aspetta Dove cazzo Andate a finire Fiamme Fiammo così allora Dove sta il drago Ah drago No te spacca il culo Vieni qua Il drago Deggio Tra l'altro È già quasi morto Spatapa Non lo so Adesso Tra cinque minuti O adesso E tra cinque minuti E Questo è quanto Ma che è successo Non lo so Ma ha ruttato il drago In faccia Ma andiamo Cerpandolo sopra Va Dove vacca troia Aspetta Mi devo ritere Trasportare I mortacci Del drago Maledetto Vabbè Non è colpa mia Però è stato il drago Che Ci vuole male E questo è quanto Questo è quanto Ah comunque Poi ragazzi È arrivato il ragno L'ho montato Ma è vero Non me ne so accorta Eccolo qua Cazzudissimo Professionale Questo è quanto E fai Sbattiti sul tavolo Vediamo Se si sente Vabbè si sente Perché fai rumore Quello è per le vibrazioni E Il drago Sta sempre qua sopra Non c'è niente Sì Però magari salvo Prima No E magari metto anche L'arco L'arco elfico E magari Te Te sparo pure Da qua In stealth La coda La coda Eh la coda Chi cazzo La La vede La coda Da qua Meglio che vado Un po' più vicino Boh Il latte freddone Ti gela Aspettate che Porca puttana Ma che cazzo Mi sei incastrato Agarmè Chi ci vogliono Le scarpe da trekking Zitti 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 Mo famo Una cosa A stertes Solo il microfone Antisismico In questa casa Sbam Ah però Non è vero Perché era già Cioè Aveva meno salute Prima Quando siamo venuti qua La prima volta Però Non si sta accorgendo Di niente Ma che cazzo Vabbè Non è che mi lamento Di questa cosa Però guarda là Guarda là Attenzione nel culo Spam Olè Andiamoci a prender Drago Poi ci darà Le pietre Che pesano Una tonnellata Scudo elfico Di parata Che è diverso Blocchi il 20% Di danni in più Con lo scudo Lo prendiamo Frecce di acciaio Le prendiamo Oro Ossa di drago Si Scaglie di drago Si le diamo A serana Frecce dei rinnegati Fanno poco danno Però Aspettiamo che Svam per drago Così ci ucciamo La signorina Laretta stasera Non ho voluto i croccantini Quindi niente regalino Di solito Ho avuto Un po' di mela Qualcosa Ma stasera niente Non ho mangiato Prima il suo piatto In realtà In realtà si stava Sperando all'osso Quindi T'ha fregato Però È perché c'ha Prove ma non vuole i croccantini Perché è un po' Puttana Allora Ehm Questo è fatta Comunque Se non ricordo male Serana Non ti attacca Se diventi lupo Appena ti liberi Di quei due Salve e fai una prova E ha di Certo che ho paura Tutti hanno paura Anche in una caverna Ovunque Scusate Allora Possiamo andare Che devi da fa? Siamo vicini Comunque Aspetta Serana Che sto un attimo Pesante Qualcosa di No Delle ossa Eventualmente Però Non penso Che per lei Faccia Problemi Allora Vestiario Ehm A parte gli amuleti Gli anelli Li posso dare Alla signorina L'elmo 22 Elmo 20 Guarda ti do Perché tra l'altro Questo L'elmo Che non è che doveva Metterlo per forza Però Le do anche questo Di elmo Che se li mette tutti Gli elmi La signora E Io ho la maschera Che è cazzuta Scudo elfico Di parata Io ce ne avevo un altro Di scudo elfico Che forse Già ho venduto O forse Non l'ho più preso Non lo so Ehm Andiamo tra le varie Che li dobbiamo lasciare Ste Pietre Aspetta ti posso lasciare Anche il collare Grazie mille a Bazinga Per la donazione Grazie E c'abbiamo anche Le scaglie Di drago Tra l'altro Sei ce ne abbiamo Mazza stavamo pesanti Vabbè No i gatti Direi di no Ma non per qualcosa Cioè io Sono allergico Continuiamo ad avanzare Al pelo Del gatto Dritti Vai Namo Verso il nostro Obiettivo Come detto Stiamo facendo Un po' di missione Principale Così ci togliamo Dalle palle Stire incoglioniti Qua che ce l'hanno Sempre con noi Cazzo Allora aspettate che devo rimettere le mie Mazza elfica a destra E spada che era la frangialba sulla sinistra E aspetta signor che sto spacco Non do sta Aspetta Tanto si mette in pausa Coscia di coniglio cruda Spada dei rinnegati Eh però sono fighe Cioè sono fighe Saranno una merda Perché sono Guarda sti pilli di puttana Aspetta Fatemi ammazza prima questa Poi me in curo Ok Cuore di Daedra Che erano anche abbastanza rari O comunque Aia Cura Cura Mettimela Sulla destra Ok Me l'hanno ammazzato loro Ok I vestiti I vestiti Li lasciamo Guarda Si non è male Quantum break Non è eccezionale Ma Ci può stare Ci può stare Questa è la parte Questa è la parte Questa è la parte Però non mi trovo con la sinistra Vabbè adesso perché ce l'ho Prendo un po' di frecce Arco di rinnegati 21 No quello che c'abbiamo noi Fa più danno direi E vabbè Ma stiamo qua dentro Alla cosa dei rinnegati So che magari è meglio Andarsene da qua Però magari facciamo Un po' di esperienza No Siga male come cosa E poi dobbiamo comunque Tornare dai compagni Perché io mi devo Andare dal tipo per Che forgiava le cose là Fate pazienza Adesso è un momento critico Ok Vabbè qua ci fanno notte Però questi rinnegati Facciamo che Un po' proseguo Cazzo Un po' proseguo anche Per la mia strada Se non ci stiamo qua Fino a domani Posso salire qua Grande Ehm Ok Perché ci è morto il cavallo Come mai ci è morto il cavallo Ce l'hai dietro A vecchio rincoglianito Vedo sempre se c'è qualcosa di Inutile Aspetta Armi a una mano Abbiamo aumentato la nostra capacità Cuore di ruolo Lo prendo Gemma Oro Ste robe Ste robe Ma la fine divinity originals Non lo continuerai più Sembrava che non ci stesse piacendo più di tanto Eh no Non penso lo continueremo No come gioco era bello Però è molto particolare In realtà Ci vuole molto Mi hanno sempre detto Tempo Tempo a disposizione Molto Infognante Però È figo Cioè se vi piace il genere di Diablo Colana d'argento In gioiellata Sì abbiamo capito ZEVOX Che avevi sbagliato Sì sì va bene Nessun problema Don't worry Dobbiamo passare questo punto E Sì sì Proseguiamo con questa Eh la signora questa pressa Questi sono simboli di HP Ma tutti e due pressano sti due Sì Esbern Che Delphine E ovviamente il simbolo Del sangue di drago Quello con una sorta di freccia Che punta verso il basso Eh Albi allora deve cucinare Alessandro Non io Allora Eh aspetta ci hai detto una cosa importante Ma Si stavo Allora ci hai detto la freccia verso il basso Sì esatto Il simbolo sulla colonna nel mezzo Qualunque cosa tu abbia fatto ha funzionato Ok no no Mi ricordo ora no Pensavo di doverle mettere tutte Cioè l'ho messe tutte uguale Ah la Civilization lo continuerà solo sul canale invidia Venerdì E poi tutorial Parti con un altro popolo No no Quello lo facciamo No sul canale invidia Faccio ogni settimana un gioco diverso Poi Civilization lo proseguiamo sul Su questo Twitch Anche perché è bellissimo Putta una troia Non lo so ma secondo me Non dovevamo camminare su questi Ma adesso che ho visto ci sono dei simboli Che probabilmente dovevamo camminare sui piattelli Con lo stesso simbolo di prima Con ogni probabilità Solo che non li ho visti all'inizio Non dovevi venire qui Ma non rompere il cazzo Aspetta non mi piace queste cose Eh sono andato un po' a testa bassa da sopra Ma dovevo Sto diventando meglio per certe cose Qua c'erano presi questo E questi due che valgono 100 Sembra il mio piccolo a capodanno Allora devi venire a Napoli Magari è di Napoli scusa Ma può essere Allora Ah rimettiamo Sto cosa qua Solo questa No avevamo fatto bene A mettercele tutte Allora Perfetto Mo attention Anzi salva va Beh certo Allora Allora Eh perché qua secondo me Dovrei aspettare questi Che ci dicono delle cose Però siccome mi rompo il cazzo Io cammino su queste qua Sperando che anche loro Camminino qua sopra Cioè quelle con lo stesso simbolo Della freccia Verso il basso Spero che anche loro Facciano il mio stesso percorso Ciao Ale No non fanno il mio stesso percorso Fottuti bastardi Aspetta Eh aspetta Perché ti fermi Dobbiamo essere prudenti Vedi questi simboli Sì e voi state a camminare Cazzo de cane Scusa Vabbè andate prima voi Che magari mi dite qualcosa prima Però là se non passavo prima Io facevate un macello Ciao Ale Probabile che l'hai già spiegato Per il nuovo pc Farai una rubrica Che comprenderà anche L'assemblaggio O ti limiterà Una tua opinione Recensione dei singoli componenti Grazie e complimenti No faccio prima Diversi video dedicati Ai diversi componenti In modo tale da spiegarvi Magari anche perché ho scelto Un determinato Magari processore Rispetto a un altro Anche perché Come detto Magari se presento il pc Potrebbe anche non Visto che non è Dedicato solo al gaming Ma anche ad altro E poi farò sì Un video dedicato All'assemblaggio Passo passo Stivali di pelle Del traino Il peso trasportabile Aumenta di 30 punti Armatura 11 Questa perché è rossa? Aumenta la salute Di 40 punti Oh Eh ma io c'ho Quella del coso Scarica in fuocata Vabbè questo lo prendiamo Eh aspettate però Gli stivali Forse ci potrebbero Anche stare Adesso c'ho questi qua Che fanno 13 Di armatura Ha una maggiore probabilità Di borseggiare Con successo Che ci frega Poi niente Grazie Questi 11 Però aumento Il peso trasportabile Eh no io no Niente Live di Twitch Eccetera Ehm Eh l'armatura non lo so Perché noi adesso Abbiamo la corazza Dell'agildà dei ladri Che è armatura 44 Il peso trasportabile Il peso trasportabile Aumenta di 35 Quindi mi tengo questo Quell'altra Per quanto è figa Però Aumenta 40 punti salute Che non è male Però è meglio Avere 35 punti Peso trasportabile Per noi che arraccattiamo Qualunque cosa Sì Adesso è sangue di lupo Guardate qua Osservate come le antiche blade Onoravano Reman Siro Che Ah la cacciatrice è venuta Perché dovevamo Stavamo a fare l'altra Quindi praticamente Ci abbiamo questa Perché stiamo a fare La missione dei cacciatori Ervecchio Perché E quella Perché stiamo a fare No è quell'altro Grazie Vabbè va Come ricorderete E gli posi Stateve zitti Uno alla volta Ho capito che devo Versare il sangue Do cazzo lo metto Qua Che faci Oddio Vai Metti un po' di sangue Carmen Che cazzo ne so Eh funziona Attiva Ok Stiamo a fare La La città turistica Quindi è meglio che salvo Ho capito Mi ha fatto capire Che non sappiamo cosa Potrebbe aspettarci All'interno Sì conosco La fragola Andiamo A salvare Ci sta la scimmietta Da fragola La gelateria Buonissimo Ritagliela No c'è il ragno Quindi senti Ah se li porta bene Allora I suoi anni Ale Dai Perché quanti 600 anni Vabbè comunque Siamo arrivati qua dentro E C'è questo qui Che ce lo segnala Come obiettivo Ora dobbiamo aspettare Gite turistiche Qua arrivano i primi In due che Non c'entrano un cazzo Quelli della missione Che cazzo stanno a fa' Non lo so Vabbè io nel frattempo Vado in giro Va' Baule Scudo Vedrebbe 29 No Quello mio 31 Peso 45 Valore 400 Ma pesa troppo Armatura 49 Vabbè è buona Ma Questa è per fare L'armatura Cazzuta Che in realtà Potremmo anche Prendere Allora Tutta sta roba Di blade La diamo A A questi altri Vabbè ce lo teniamo Esposto magari No tu Quell'altra Sì sì Anche fratta maggiore Dove sei stato Come dove sei stato Mi sta a fare Terzo grado Qualcosa di bello Allora Serana Senta Se deve PA Tutta la roba Di blade Se la trovo Non so se guardare Le figure Corazza di blade In realtà Anche questa Potrebbe prendere L'elmo Di blade La svizzera Deve essere Bellissima Di quanti Di blade Scusi Di blade E le scarpe Di blade Mi sa che abbiamo finito Che roba di blade No Ok Eh si è messa tutta Però la cosa Secondo me è cazzuta No a posto è così Ma secondo me si è pesantita No Vabbè sti cazzi E non va più lento Ma che me frega Problemi suoi L'etichetta Della mazza Aumento Ok A 50 Ma non l'avevamo già aumentata A 50 Scusate Prendi Flaggello Del drago Danni 20 Peso 10 Valore Hai visto il valore Si non era tantissimo Però Come non era Della 700 Ma lascia fare Queste barbonate Allora aspetta Fatemi vedere Sto flaggello Del drago Perché noi comunque Ci abbiamo 24 20 Cosa significa Quel triangolino A destra Del nome Di certe armi Armature Quando Le abbiamo messe Tra i preferiti Ad esempio Noi se questa Aspetta Quest'altra Blade Il flaggello È buona Per i draghi Questa Fa 24 Di danno Il Flaggello Del drago 20 Eh Comunque Se mettiamo Triangolino Ce lo mette Là Questo qua Ad esempio Che sono le frecce Naniche Con il triangolino A destra Dovrebbero essere Quelle Ah Dicono che L'oggetto È più forte Di quello Che stai usando Il segno Quale segno? Penso Eh Ah Vabbè Tipo la mazza elfica Perché adesso C'ho quell'altra Sì Però il danno Specifico Ad esempio Questa fa 26 Di danno Noi al momento Stiamo usando Questa qui Che fa 24 No pensavo Che stavate dicendo Il triangolino Sulla sinistra Non il triangolino Sulla destra Vabbè Come l'ascia Che fa più danno Però Ci teniamo Le nostre Al momento E aspettiamo L'arrivo Di questi qua Vabbè Io mi faccio I miei giri Comunque Senza esagerare Però Perché Se no Qua ci perdiamo Vorrei andare Troppo oltre La marmita La pelle di capra Te la lascio Anche se forse No La pellicce Ne prendiamo Zanna di Orca Che Ehi ad Alex Se vuole fare un po' Di guida sportiveggiante Nei tornanti Svizzeri Se vuoi ti faccio Da GPS Come dirt rally Andiamo con la Fulvia O con la Stratos O con la Delta Beh se c'è la Fulvia La strada sulla Delta E mi porti Svizzera Pure pure Cioè ti devi venire A pigliare E devi ritornare Ma io ho capito Come cazzo C'è arrivo In Svizzera Scusate Ma è che signore Di sto cazzo Allora Se ti dico a te Andiamo in Svizzera Che mi dici Eh spero Mi guardo la valigia Sì sottoli Aspetta C'era Pelle di cavallo Pesa troppo La pelle di cavallo Ma poi ho detto Se ha la Delta La strada O se Magari ci organizziamo Vabbè col viaggio Vediamo Eh beh però Scusate Se c'è la Delta Tipo viene a prendere Con la Delta Poi ripartiamo Con la Delta Ecco Ah è arrivata La guida turistica sotto Porta infatti portata Lui in Svizzera La Lesber Dando vita Alla leggendaria Guerra dei Traghi Secondo me è bellissima La sconfitta Di Alduin Occupa la parte centrale Fammi sentire La guida turistica Ecco Questa cadendo dal cielo Le lingue dei Nord I maestri della voce Sono schierate contro di lui Ebbene Come hanno fatto A sconfiggerlo Siamo qui per questo No 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 Mi piace O qualcosa contro la Svizzera A me piace Gli Akaviri Non erano un popolo Soprattutto la parte Quelle più isolate E espresso attraverso Allegorie E simbolismo epico Sì Sì Questi segni Che fuoriescono Dalle bocche degli eroi Nord È il modo Con cui gli Akaviri Indicano un urlo Ma Non sappiamo A quale urlo Si riferiscano Probabilmente Ha a che fare Con i draghi O addirittura Con Alduin In persona Vuoi dire Che hanno usato Un urlo Per sconfiggere Alduin Ma ne sei certo Oh sì Non avrebbero parlato Così tanto Dell'urlo Se non fosse stato Importante Ricorda Questo muro È stato creato Come memoria Per le Blade Del futuro Nulla è qui Per caso Dunque stiamo Cercando un urlo Accidenti Eh Va bene Non te lo segno Hai mai sentito parlare Di una cosa del genere Un urlo Che può abbattere Un drago Mentre Temevo Che l'avresti detto Immagino Che non ci sia Altra scelta Dovremmo chiedere Aiuto Lassù I Barbagrigia Hanno talmente paura Del potere Che non lo usano Pensaci Hanno tentato Di fermare La guerra civile O sono intervenuti Contro Alduin No E loro ti temono Hanno paura Del tuo potere Fidati di me Non c'è nulla Da temere Pensa Tiber Septim Credi Che avrebbe fondato L'impero Se avesse dato ascolto Ai Barbagrigia Bene I Barbagrigia Hanno molto Per insegnarti Ma non permettere Che ti distolgano Dal tuo destino Tu sei Il sangue di drago E solo tu Puoi fermare Alduin Non dimenticarlo Bene Per fortuna Ti avevano già Messo nella loro Piccola setta Dubito Che avrebbero aiutato Me o Esbern Se fossimo arrivati Esploreremo Il tempio Del rifugio celeste E scopriremo Se le vecchie Blade Hanno lasciato Qualcos'altro Per noi E' un nascondiglio Migliore Di quanto sperassi Che Talos Ti protegga Ok Allora Dobbiamo andare Vabbè State per qua Iniziata La gola Del mondo Ecco Eeeh Eh cazzo Però mi piacerebbe Adesso proseguire La missione Questa qua Porca puttana Allora Facciamo una cosa Andiamo un attimo A fare quella Dei lupi Mannari So che stiamo a fare Sopra e sotto Però è in cazzo De casino Andiamo un attimo A quella dei lupi Mannari Così ci togliamo Dalle palle Questa Qui dei compagni Anche se in realtà Poi volendo proseguire Quella dei compagni Dobbiamo richiedere Un lavoro Un lavoro E quindi ci si affizza Qualcun altro Vabbè Comunque vediamo Per quanto riguarda I simulatori di guida Vediamo Quando ci facciamo Una live Magari riprendiamo Assetto corsa Qualche volta Ci possiamo fare Una endurance Su project cars Eccetera Comunque detto questo Per quanto riguarda Le missioni Ma avete visto La mod su GTA 5 Vabbè ma ce ne stanno Mille mesi Sono da anni Sì ma quella È fantastica Ma ce ne stanno Da un sacco di tempo Poi se avremo Con il nuovo pc Qualche cosa su GTA 5 Le mod le faremo Usciti i cacciatori Di rubi Mannari Ok La gola del mondo Ce la faremo dopo Abbiamo un fottito Di cose da fare Andiamo sulla mappa Dobbiamo tornare Ad ammazzare Quelli là Che stavano Da questa parte Ok Ci eravamo già arrivati Alla roccia dell'impiccato Sì Quindi ci Ci trasferiamo Ma non è venuta male Ehm Non lo so C'ha un che di Sembra È il naso Che sbagliato Assomiglia più Alla scimmia Come si chiama Winston Ma non è vero No nel senso C'ha un bot No No perché Questa va bene Non posso fare l'effetto Della lente Perché questa c'ha il vetro Qua C'ha gli occhiali Probabilmente è quello Non che impazzesca Per il sole Ma nemmeno per questo Ehm Comunque Per quanto riguarda Roma e Sky Farei qualche episodio Sugli aggiornamenti Eh se avrò tempo Sì Vediamo Non vi assicuro niente Perché adesso Di survival Abbiamo riniziato Arc Poi ve ne porto Anche qualcuno nuovo Che c'ho dei survival Fighi Vabbè anche un po' Vecchiotti qualcosa Però va bene Ehm No vabbè è sempre la stessa Allora Guarda Sui codardi Devono aver bloccato L'accesso Vabbè Finisci di parlare Nei che me devi spingere Tira la catena Ok E Salvataggio rapido Perché qua la vedo male Andiamo Però possiamo anche Rimettere eventualmente Da quest'altro lato La mazza elfica Spam Eccoli qua Da questa parte Da questa parte Da questa parte Poi proviamo Anche a trasformarci Al momento andiamo A mani nude Di cattiveria L'idromele Te lo tieni Le frecce Me le tengo E Quell'altro sotto Era questo Quell'altro Oro Corazza Te le tieni La spada pure Gliela lasciamo E Ah c'è la rostata Questo Qualcosa di Valore No niente di che Cerchiamo nel Baule Oro La tiara La prendiamo Ste tiare Almeno ci fanno Guadagnare un pochino Cosa è per un'occhiata Qua In giro Faffa Mio Fatto E' fatto E' fatto E' fatto E' giusto Scusate E' qua E' fatto che in questo Mi sta da Fattendo Lo dammo c'è quella porta che fa su e giù aspettate facciamo così metto la cura qua vabbè facciamo così lasciamo questa cosa sta la signora un momento fatemi curare ma che te sta sgranchi ci stanno ammazzate sta sgranchi ma che cazzo è popolo momento arco imperiale però il loco sarebbe stato qualcosa di estremamente gradito in questo gioco salve salve questa è morte il lupo mannaro si carne umana pelliccia di lupo vabbè almeno la pelliccia la prendiamo ma che finta ma pure il libro vabbè non è strano che non si può prendere eh che cazzo non c'è allora aspettate riprendiamo un po' di arco dai guarda stare incoglioni togliti dal cazzo ma come l'ho preso in testa sentito niente eh infatti ho sentito niente eeeh rimetta la cura qua e quindi rimettimi la ma il fusturo da quanto vabbè ho fatto cascata la serana al lager mi sono incastrato cazzo faffanculo scusi eh intanto io mi frego la roba sennò poi ce ne scordiamo tanto si mette in pausa quando facciamo ste cose un attimo ah ma no queste qui però vede è una stronzata che comunque questi qua che evocano ah no scusa scusa quelli che evocano i personaggi evocano gli stessi nemici perché poi cambia solo il nome che c'è scritto serana mano d'argento ma esteticamente uguale cioè come vedete io già attacco i miei alleati in figura di se li mettono uguale basta mi arrendo basta zitta mi arrendo ti ha sbaccato la testa in amicizia non ho preso la birra? eh ho sbagliato volevo prendere le frecce avevo visto le frecce si è presa la birra uguale eeeh niente di particolare da ciullare no non c'è nessuno basta ok dicono ma la casa non la fai più? eh ma come vedete abbiamo mille mila cose da fare cioè non è che non la voglio fare anzi è una delle cose che mi piacerebbe più fare però sponano missioni una dietro l'altra quindi adesso sto proseguendo un po' questa di compagni per togliermi dalle balle anche queste per vedere un pochino eh tante cose a ciotola piato cazzo di carmelo questa non vale niente questa prendiamo questa pure nella cassetta non c'è niente nel baule oro pozione e rubino posto così andiamo aspetta una salvata che da una vita che non salvo mi dimentico sia di salvare che di controllare la barra della vita cose leggermente fondamentali questo cazzo l'ha messo sulla sinistra sulla testa ma che cazzo sta a fare? metti sto cazzo d'arco ma perché me lo mette qua? ma che è sta stronzata? aspetta è successo un macello non so perché mi mette l'arco dall'altra mano non lo so che cazzo è successo vabbè no comunque è giusto a parte la precisione non è proprio dalla nostra parte però qualca puttana spai adesso attacca come se non ci fossero domani e io sono nord in realtà non è per qualcosa comunque bastone palle di fuoco mettiamo eee anzi facciamo una cosa va forma ferale che in realtà al momento non credo di poterla usare no la possiamo usare e no non me l'ho ammazzata in alto ma che mi fa qualcosa? guardate avevano consigliato una cosa quando ti trasformi in un lupo devi mangiarti di nemici devi tenere eeeh eeeh no no non sto affanando sto continuo ad attaccare solo ah eeeh 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 vabbè e questo qui però guardate che cazzo è successo c'è un glitch grafico direi quando faccio così vabbè comunque nutriti vai non lo so se è bloccato il mondo oh ok vabbè ci mangiamo tutti che ci frega questa è fatta se riesco anche ad andarmene ci nutriamo un po' di tutti però è aumentata anche la brama di sangue secondo me questo poi ci porterà qualche malus tipo che ci viene più fame grazie i belghi non sembrano scimmione no ma visto da vicino c'hanno dei bozzi ma non è vero aspetta in qualche modo sono riusciti a uccidere Schior era uno dei più forti di noi ma il numero dei nemici lo ha sopraffatto non sarebbe dovuto venire senza un fratello di scudo vattene io controllerò che non sia rimasto nessuno in vita e cercherò di ricavare qualche informazione dai cadaveri io e te abbiamo del lavoro da fare in mano d'argento tremeranno dinanzi a noi ok eeeh ok che attentato c'è stato intanto mi magno questi eeeh ma se premo ok ah così facciamo ok perfetto e eventualmente come faccio a tornare normale porca puttana ok qualcuno che sappia tornare normale non sarebbe male eeeh eh cosa è stato sto cazzo di lupo che si è impallato da lupo eh no deve far passare del tempo dicono eh allora aspetto un'ora eh perchè ci sta il cassone ok eh perchè c'era a parte voglio fregare da questi eeeh sti bastoni li prendiamo che sono fighi scudo no se vuoi tornare normale ti dicono di far passare il tempo con l'attesa eh l'ho fatto fiume si si infatti l'ho fatto inizialmente più leggero altrimenti poi quando lo cancellavo il tratto si vedeva la macchia c'è niente di particolare questo oddio questa acqua 20 eeeh flige 10 punti di danno al vigore ascia da guerra di ferro però è quella grande se non sbaglio i vestiti ti rimangono addosso quando torni normale eeeh si eh se no era una gran rottura di cazzo si fa freddo ascia da guerra no lei non c'ha paura dei fuori d'artificio non se ne importa proprio va bene va bene allora qua abbiamo quasi fatto in realtà perchè non abbiamo aperto poi stesso è capocce nel baule grimaldello oro tomo manto del fulmine che non ricordo se l'avevamo corretto la light dovrebbe durare un'altra retta e mezza due ore no non lo so anche meno direi eh si no sono le 11 no le 10 una retta conosci già ok quello non lo conosceva ma preferenza dello stile del disegno no però mi piace vedere tipo i ritratti ma anche le foto mi piace vedere il viso delle persone non i paesaggi o cose simili i primi piani i dettagli del viso mi piace tanto andiamo va ah la versione di prima trasformazione che ho fatto il giro il personaggio era nudo cioè non te li trasformavi era nudo ah avranno fatto una patch aspetta rimettiamo una mazza elfica ma è questo che vuoi eh che bastone aspetta aspetta bastardo il mio colore preferito è il verde bottiglia ok possiamo uscire e il purpura l'ho fatto il ritratto di ale va bene allora questo deve essere il bellissimo tempo di skyrim di cui mi hanno sempre parlato trigo è cazzutissimo eeeh allora come hai detto per quanto riguarda le missioni vabbè questa è quella principale qui dobbiamo raggiungere questa zona che si potrebbe volendo anche fare ti chiedono ma non avanzi di livello? in realtà volevo proseguire ancora un po' chi ah cazzo stazzo non l'abbiamo scoperta allora dove cazzo stanno i nemici scusate non è vero non c'è stanni i nemici a parte i comandi del bimbo consigli l'acquisto di The Last Guardian? eh lo dirò quando l'ho finito diciamo al momento ancora non saprei e lo devi chiedere ad Ale com'era com'era il ritratto lo ricordi quello lì dove eri di profilo? no non era male no non era male eh non lo so ma anche per quanto il peso trasportabile noi ne abbiamo un fottio però noi lo riempiamo sempre quindi comunque il cavallo effettivamente forse è morto ma come cazzo è morto il cavallo? scusate com'è morto il cavallo cioè io non l'ho proprio visto più eh il ritratto in realtà non lo so se lo buttai nel trasloco mi sembra strano perché non lo trovo qui eh richiede la chiave aspetta dove andrà no non devo entrare qua devo fare il giro ma state in mezzo al cazzo con sta cittadina di merda andata a fa' un culo che cazzo è? rompi i coglioni come perché c'è una città l'isoletta qua devono rompere le palle a parte che dovevamo andare a parlare anche con il fabbro dei hanno ammazzato i rinnegati di al cavallo fottuti bastardi perché il cavallo rincoglionito era dai rinnegati c'era risponato malamente vabbè dobbiamo andare di qua quindi come ce n'è notata che porti domani? non lo so forse Dragon Quest Builders che è da un po' che non lo facciamo vediamo è da un po' che non fai anche Battlefield con Aldo eh Battlefield non lo so in realtà devo anche assetto corsa vorrei fare però è più facile che porti Dragon Quest Builders aspetta quando cazzo se sale qua ecco dall'altro lato dica che è? ho detto Fabi ho detto dica va di Dragon Quest andiamo di Dragon Quest ho detto mi piace Dragon Quest vado a schiassinare schiassinare mortacci loro però eh avanti fottuta vibrazione di merda che tra l'altro fottuta non vibrazione di merda ma secondo me poi quando vanzi di livello c'è anche una cosa per lo scassinare si che ci sta ma io voglio aspettare perché ancora non ho deciso cosa aumentare io vado sempre un po' più avanti mi tengo alcuni livelli da parte in alcune fottute situazioni perché poi magari scopriamo che ne so un qualcosa di particolare un'armatura più pesante vogliamo aumentare il peso trasportabile invece della salute oppure abbiamo prima l'altra volta iniziato a fare un po' di lanci di magie quindi volevo aumentare un po' la magia quindi vedo un po' in base anche a quello che quello che cerchiamo ci avrebbero messo tipo due secondi e mezzo ma dato che non ci sono interessi economici dietro si lasciano fare anche se tutto cazzo siamo andati qua aspetta no vabbè abbiamo sbagliato perché siamo entrati qua dentro ma non avevo letto che era una porta di quelle non ho mai visto foglie di questo no Starry Valley sì penso che lo lo riporteremo perché mi garbava così potrò prendere le tue catture il primo antello indistruttibile dovrebbe esserci per la missione dei padri non sa che è una vita ragazza cazzo puttana la troia di Eva scommetto che non ha salvato dopo che ho scassinato la porta vediamo un po' non ho mai visto eh no avevamo scassinato zitti ammazziamo subito ok lasciamo questa la prendiamo consiglio di trasformarti quando sei in giro eh ma il fatto è che mi no non si trasforma approfittiamo di questo momento boom boom guarda le frecce a meno che non ha riattivato quell'altra però in linea teorica che cazzo sta no sto vedendo un attimo di cose vabbè eh comunque tra l'altro vorrei dire niente ma tra tutte queste cose forma ferale assumi le sembianze di lupo ce l'abbiamo disattivata non so perché è questo che vuoi eh non mi basterai carino questo bastone eh ma si consumano vabbè che poi li posso ricaricare con le pietre eh quello però è tosto ah ti puoi passare ormai una volta al giorno ah eh vabbè ma serana sei data la fuga e allora aspettate che dovrei mettere l'urlo eh come ho detto da last guardian non lo sto seguendo passo passo ogni tanto non lo stai seguendo per niente si ogni tanto mi fermo a guardarlo perché mi piacciono i disegni è dolce forse inesorabile è poetico eh che ci abbiamo attivato però morirai per questo eh sono un po' troppo cioè sono troppi che serana non ho la più qualità di dove cazzo si è andata a finire quindi la combinazione di queste due cose ci mette un po' in difficoltà rimettimi prosciuga vitalità notte notte piano piano stiamo aumentando le armi a una mano però aspetta questo possiamo allora questa era non è abbastanza magica è vero aspettiamo intanto visito la vostra casetta bella tutta a posto come va aspetta basta evitare quello con l'arco grazie mille è bravo Giovanno per la sottoscrizione spagabamba ancora non abbiamo abbastanza magica però è di una vabbè va ma non ce l'avevano ma cazzo le pozioni della magia minore ok ce l'avevamo ma quanta cazzo di magica ci vuole per evocare sto non era quello dell'evocazione grazie a scarlet poro per la sottoscrizione e brava Giovanna brava che poi dico io vabbè mi dà fastidio questo con l'arco perché poi quell'altro piano piano facciamo così comincia a correre così posso pugnalarti alla schiena questo faccio in me no inquisition non vedo l'ora di castare le tue monete questo sottuto bastardo metà la cura metà la cura però quella baldrak di serana quella magia serve per animare gli scheletri ah solo gli scheletri ma che stronzata però è il bastone rosa di sanguine per evocare il tremor quel caso cazzito non ho capito niente è il bastone rosa di sanguine sanguine per evocare il tremor ah è vero quello dell'altra volta infatti pensavo per una cosa del genere però siccome questo qua rimane bloccato là noi facciamo una cosa tecnico-tattica almeno sì però avete visto come cazzo vanno le frecce cioè miri qua vanno da un'altra parte una volta ogni due perché sbazza sul muretto no è stortissimo scusi eh faccio così mi dispiace guarda guarda ti provoca pure fammi affreccete giovani puoi me dire dai però sangue ma che ti arrendi devi morire male ti arrendi non si fanno prigionieri giovane ok questi li avevamo già non li avevamo pregato niente i giochi che avete platinato eh per quel che mi rivolgo fallout 4 no aspetta ah cosa ma io all'inizio un po' mi ci mette ho platinato i i god of war i god of war vabbè burn out paradise call of duty world at war che è stato l'ultimo che ho giocato quello quello che è uscito da poco la ragazza che faceva le fotografie come si chiama life is strange ah perché devi fare la storia alternativa si vabbè comunque abbiamo fatto tutta sta cazzi cacciara noi alla fine dobbiamo andare qua sopra giusto quindi devo trovare il modo per arrivarci perché in realtà ma quello ma in realtà sul braccio ma comunque non si muove per noi vabbè no ma infatti si è quello che dico anch'io questo gioco come il video non ho già fatto difficoltà basse perché non ci si può stare ad impazzire con un sistema di combattimento così di merda skyrim dici sì noi siamo su un medio in realtà tanto è un gdr non è che è basato sui combattimenti come dark souls no dipende ci sono gdr e gdr tipo dragon age e the witcher i combattimenti stanno fatti bene però skyrim stanno fatti veramente col culo quindi sì effettivamente si potrebbe giocare benissimo a facile perché i combattimenti sono molto relativi diciamo rispetto al gioco il bello è andare in giro fare quest eccetera perché poi il combattimento in sé per sé è fatto col culo sì però vabbè porta di legno difficile vabbè qua ah no dobbiamo fare per forza perché là dobbiamo andare allora aspetta salvo prima perché qua utilizzeremo millemila grimaldelli di presumo cazzo ci siamo quasi fatta al volo stranamente spam ok salve salve cazzo secondo te l'aumento dei prezzi nei videogiochi è dovuto all'aumento della pirateria ma veramente il costo è sempre stato questo mi ricordo i videogiochi quando erano in lire costavano 150 mila lire che sono i 70 euro di oggi anzi è l'unico prodotto che magari ha avuto una conversione uno a uno cioè uno a uno intesa come onesta tra virgolette cioè i prezzi non sono mai saliti dei videogiochi ma anche di più di porto questo no vabbè quello perché magari c'era qualche rivendito adesso ci stanno i rivenditori che fanno prezzi più bassi quindi una volta invece era molto più non c'era internet quindi li pagavi quel prezzo però io c'ho anche international superstar soccer la cazzo non ho preso quella roba maledizione aspetta tanto quella porta l'abbiamo aperta ho internet che c'era anche la chiave tra l'altro vabbè abbiamo fatto esperienza di non scassinare che dietro c'è scritto 155 mila lire ole va bene ora possiamo riscendere qua infatti sì pure io c'erano alcuni giochi che costavano molto di 150 mila lire ma io il massimo che ho letto è 155 poi naturalmente neanche li compravo cioè lì c'è il prezzo 155 però c'è l'altro prezzo con lo sconto diciamo ma quello che cazzo c'era pokemon stadium 2 per l'intento 64 200 mila lire mario party 380 mila lire no ma infatti al massimo sono deprezzati più che altro vabbè costano ancora troppo e all'epoca erano un furto però per dire allora c'è questa ascia da guerra di ferro dello sgomento tutti sti nomi per nascia che pesa un sacco e invale una sega certo magari la prendi e la dei cosi la progettazione ideale della serratura prendi prendi no questo è solo per scassinare aumentato a 42 lo possiamo pure lasciare poi ok alterazione aumentata a più 18 ci saranno un sacco di libri utili la leggenda dell'aquila rossa no non serve poi ci sono questi qua livello di armatura però valgono stivali elfici del fulmine 467 prendi vale quindi invece se diminuisse la pirateria e quindi se avessi un gioco lo compri diminuirebbe il prezzo se tutti comprassero i giochi beh in linea teorica si lo strada gemma di mano d'argento dei mano d'argento corazza orchesca vale 1000 ok foro questa spada d'acciaio della fatica infligge 5 punti di danno al vigore non ne vale la pena questo ce lo prendiamo una vampata infligge 8 punti di danno al secondo no in realtà no non mi era fighissimo burnout paradise assolutamente sì cioè anche comprarlo varrebbe la pena in realtà la leggenda dell'aquila rossa allora sblocca una missione leggi la leggenda dell'aquila rossa ma in realtà la credo che poi possiamo anche momento aspetta no la leggenda dell'aquila scusa non era mi sa che era uno di quei libri che abbiamo lasciato che non ricordo dove l'abbiamo lasciato ah è un bel gioco di strategia in tempo reale la leggenda dell'aquila rossa eccolo dipende se lo cerchi nuovo o un po' più vecchiotto ci sono i classici empire earth age of empire poi empire of the modern age un sacco no comunque non ci ho sbloccato sì invece sì trovo la spada dell'aquila rossa quindi i libri conviene sempre leggerli tutti anche quelli di barmoni a quanto pare sì ho capito però è una parola ci facciamo 600 milioni di anni di missioni non che non guarda quella sera una testa di cazzo allora come detto dobbiamo andare dalla tipa lo conosci outland non lo so mi viene in mente comunque la pirateria adesso è diminuita tantissimo vabbè diminuita con le ultime generazioni rispetto a alcune generazioni fa dove era molto più alta però c'è ancora molta pirateria aspettate che stiamo un attimo e ragno la collector edition di The Last of Us è salita fino a 1200 euro